Nella notte santa. Io stavo sulla riva della Goldwa e attendevo dall'altra sponda la chiatta. In tempo normale la Goldwa si presenta come un fiumiciattolo di mezza tacca, silenzioso ed assorto, che luccica mite di dietro i folticanneti, ma adesso si stendeva davanti a me tutto un lago. Le acque primaverili in piena avevano oltrepassato entrambe le rive e sommerso per largo tratto le due zone lungo il fiume, invadendo orti, prati e stagni, tanto che sopra la superficie dell'acqua non era raro incontrare dei pioppi e degli arbusti che spuntavano solitari, simili nella tenebra a severi dirupi. Il tempo mi pareva magnifico. Era buio, ma io tuttavia vedevo e gli alberi e l'acqua e le persone. Il mondo era rischiarato dalle stelle, disseminate fittamente su tutto il cielo. Non ricordo di aver visto in altro momento tante stelle. Non c'era alla lettera uno spazio libero da introdurci un dito. Ce n'erano di quelle grosse come un uovo di oca e di quelle minute come un granello di canapa. Erano uscite in cielo per la festosa parata tutte quante, dalle piccole alle grandi, lavate, rinnovellate, gioiose, e tutte quante facevano vibrare dolcemente i loro raggi. Il cielo si specchiava nell'acqua. Le stelle si bagnavano nella scura profondità e tremavano ad un tempo con la lieve increspatura. L'aria era tepida e quieta. Lontano sull'altra riva, in un buio impenetrabile, ardevano sparpagliati alquanti lumi di un rosso vivo. A due passi da me nereggiava il profilo di un contadino dal cappello alto e con un grosso, nodoso bastone. Quanto tarda la chiatta, però, dissi io. Già, dovrebbe essere qui, mi rispose il profilo. Anche tu aspetti la chiatta? No, io son di qui, sbadigliò il contadino. Aspetto di vedere la luminaria. Ci andrai, ma, confesso, non ho un cinquino per la chiatta. Ti lo darò io, il cinquino. No, ringraziamo umilmente. Tu, piuttosto, con codesto cinquino, metti un cero per me, là, al monastero. Sarà una cosa più originale e io rimarrò qui. Ma dimmi, di grazia, la chiatta non c'è. Come fosse sparita nell'acqua. Il contadino si fece proprio vicino all'acqua. Si afferrò con una mano al canapo e gridò IERONIM! IERONIM! Come in risposta al suo grido giunse dall'altra riva il suono prolungato di una grande campana. Era un suono profondo, grave, come quello emesso dalla corda più grossa del contrabbasso. Pareva un rantolo delle tenebre stesse. Subito si udì un colpo di cannone. Esso rotolò nell'oscurità e finì in qualche posto lontano, dietro al mio dorso. Il contadino si tolse il cappello e si segnò. Cristo risorto, disse. Non ebbero il tempo di morire nell'aria le onde del primo suono di campana, che se ne udì un secondo, poi subito un terzo, e le tenebre si riempirono di un incessante, tremulo rombo. Accanto ai lumi rossi si accesero nuovi lumi e tutti insieme presero a muoversi, a vacillare inquieti. IERONIM! Si sentì un grido sordo, prolungato. Gridano dall'altra riva, disse il contadino. Dunque anche là non c'era chiatta. E' addormentato il nostro IERONIM. I lumi e il vellutato scampanio attiravano a sé. Io avevo ormai cominciato a perdere la pazienza e ad agitarmi, ma ecco che infine, scrutando la buia lontananza, scorsi il profilo di qualche cosa che somigliava molto ad una forca. Era la tanto attesa chiatta. Avanzava con tale lentezza che, se non fosse stato il graduale delinearsi dai suoi contorni, si sarebbe potuto pensare che stesse ferma oppure che andasse verso l'altra riva. «Presto, IERONIM!» gridò il contadino. «Un signore, aspetta!» La chiatta scivolò verso la riva, oscillò e si arrestò con uno scricchio lio. E stava sopra, tenendosi al canapo, un uomo alto, in tonaca monacale e con un berrettino conico in testa. «Perché tanto tempo?» domandai balzando sulla chiatta. «Perdonate, per amor di Cristo!» rispose piano IERONIM. «Non c'è nessun altro?» «Nessuno!» IERONIM si afferrò con tutte e due le mani al canapo, si curvò a punto interrogativo e fece un raschio. La chiatta scricchiolò e oscillò. Il profilo del contadino dal cappello alto cominciò ad allontanarsi lentamente da me, segno che la chiatta aveva preso il largo. IERONIM presto si raddrizzò e si mise a lavorare con una sola mano. Noi tacevamo, guardando la riva verso la quale si avanzava. Là era cominciata la luminaria che il contadino attendeva. Proprio accosto all'acqua, fiammeggiavano, enormi falò, due botti di catrame. I loro riflessi, porporini come la luna nascente, si strisciavano incontro in lunghe ed ampie strisce. I botti, ardendo, illuminavano il loro proprio fumo e lunghe ombre umane, che baluginavano accanto al fuoco. Ma più in là, dai lati e dietro ad esse, di dove giungeva il vellutato scampanio, era sempre quella stessa, impenetrabile, nera tenebra. Ad un tratto, fendendo l'oscurità, settò verso il cielo come un nastro dorato un razzo. Descrisse un arco e quasi si fosse spezzato contro il cielo, con uno schianto si sparpagliò in scintille. Dalla riva giunse un rombo, simile a un lontano urrà. Com'è bello, dissi io. Non si può nemmeno dire quanto è bello, sospirò Ieronim. È una tal notte, signore. In un altro momento non si farebbe neppure attenzione ai razzi, ma oggi si si rallegra di ogni inezia. E voi di dove sareste? Dissi di dove ero. Sì, signore, una lieta giornata oggi, continuò Ieronim, con la debole, sospirosa voce tenorile con cui parlano i convalescenti. Si rallegra il cielo e la terra e l'inferno. Fa festa ogni creatura. Ma soltanto ditemi, buon signore, perché mai, perfino in mezzo a una grande gioia, l'uomo non può dimenticare le sue afflizioni. A me parve che questa inaspettata domanda voresse provocarmi a una di quelle prolisse conversazioni edificanti che tanto piacciono ai monaci oziosi che si annoiano. Io non ero disposto a parlare molto, perciò domandai soltanto E quali afflizioni avete voi, padre? Di solito quelle di tutti gli uomini, vostra nobiltà, buon signore. Ma in questo giorno si è avuta al monastero un'afflizione speciale. Proprio durante la messa, al momento delle paremie, è morto lo iero diacono Nicolai. E che c'è? È il volere divino, dissi io, imitando il tono dei monaci. A tutti tocca morire. Secondo me, voi dovete anzi rallegrarvi. Dicono che chi muore la vigilia di Pasqua, o a Pasqua, quello va di sicuro nel regno dei cieli. È vero? Tacemmo. Il profilo del contadino dal cappello alto si fuse coi contorni della riva. Le botte di catrame avvamparono sempre di più. Anche la scrittura insegna chiaramente la vanità delle afflizioni e la meditazione. Ruppe il silenzio a Yaronim. Ma perché mai l'anima si cruccia e non vuole ascoltare la ragione? Perché si ha voglia di piangere amaramente? Yaronim si strinse nelle spalle, si voltò verso di me e prese a dire in fretta. Se fossi morto io o qualcun altro, la cosa forse passerebbe inosservata. Ma è morto Nicolai? Non già un altro, ma Nicolai! Riesce per fin difficile credere che egli non sia più al mondo. Io sono qui, sulla chiatta, e mi par sempre che da un momento all'altro egli debba dalla riva darmi una voce. Perché io sulla chiatta non avesse un'impressione paurosa. Veniva sempre sulla riva e mi chiamava. Apposta per questo si alzava la notte dal letto. Un'anima buona, Dio! Quanto buona e misericordiosa! Per certi uomini. Nemmeno la madre è quello che era per me questo Nicolai. Salva, o Signore, la sua anima! Yaronim si afferrò al canapo, ma subito tornò a voltarsi verso di me. E che luminosa intelligenza, signoria, disse con voce di canto, che armoniosa e dolce favella. Proprio come tra un momento canteranno a mattutino. Ah, amato, oh, la dolcissima tua voce! Oltre tutte le altre qualità umane, egli aveva anche un dono inconsueto. Che dono? domandai. Il monaco mi squadrò. E come si fosse convinto che mi si potevano confidare dei segreti, si mise a ridere allegramente. Aveva il dono di scrivere le laudi, disse egli. Un portento, Signore! È tutto detto. Resterete stupito se vi spiegherò la cosa. Il nostro padre archimandrita è di Mosca. Il padre vicario ha finito gli studi all'Accademia di Kazan. Ci sono da noi anche degli assennati ieromonici e degli eremiti, ma... Vedi un po', di grazia. Non ce n'è neppure uno che le sappia scrivere. Invece Nicolai, un semplice monaco, un ierodiacono, non aveva studiato in nessun posto ed era perfino di poca apparenza. Ma le scriveva. Un portento, un vero portento. Ieroni batte le mani e, dimenticandosi affatto del canapo, continuò con foga. Il padre vicario ha difficoltà a comporre le prediche. Quando scriveva la storia del monastero, metteva in croce tutta la frateria e una decina di volte andò in città. Invece Nicolai scriveva le laudi. Le laudi ebbe un'altra cosa che una predica o una storia. Forse che è difficile scrivere laudi, domandai. Difficilissimo! E Ieroni mi storse il capo. Lì, con la saggezza e con la santità non si fa niente se Dio non ha dato il dono. I monaci che non capiscono, sono d'opinione che a tale scopo occorre soltanto conoscere la vita del santo per il quale si scrive e regolarsi sulle altre laudi. Ma questo signore non è giusto. Certo, colui che scrive una laude deve conoscere la vita del santo in modo straordinario fino all'ultimo minimo particolare. Sì, e occorre anche regolarsi sulle altre laudi per sapere dove cominciare e di che cosa scrivere. Per farvi un esempio, il primo Kondak comincia dappertutto con proibito o eletto. Il primo Icos bisogna sempre principiarlo con l'angelo. Nella laude a Gesù dolcissimo, se questo vi interessa, esso comincia così. Degli angeli creatore e signor delle forze. Nella laude alla Santissima Madre di Dio, un angelo protettore fu mandato dai cieli. In quella Nicola Taumaturgo, in figura d'angelo con natura terrena, e così via. Dappertutto si comincia con l'angelo. Certo non si può fare a meno di uniformarsi a ciò, ma la cosa principale non sta nella vita, non sta nella conformità al resto, ma nella bellezza e nella dolcezza. Occorre che tutto sia armonioso, breve e conciso. Bisogna che in questo versetto ci sia morbidezza, affettuosità e tenerezza, che non ci sia nemmeno una parola rozza, dura o non adatta. Così bisogna scrivere, perché il pregante si allieti nel cuore e pianga, e nella mente rabbrividisca e tremi. Nella laude della Vergine ci sono le parole Gioisci, altamente inaccessibile agli umani pensieri, Gioisci, profondamente invisibile anche agli occhi degli angeli. In un altro passo della laude è detto Gioisci, albero luminosamente fecondo, del quale si cibono i fedeli. Gioisci, albero beneficamente fronzuto, dal quale molti sono riparati. Ieronim, come spaventandosi di qualche cosa, o fattosi vergognoso, si coprì il viso con le palme e scosse la testa. Albero luminosamente fecondo, Albero beneficamente fronzuto, egli mormorò. E c'è chi trova simili parole, e il Signore ha dato una simile capacità. Per concisione egli costringeva molte parole e molti pensieri in una sola parola, e come tutto ciò gli riusciva armonioso e preciso. Lume dator di luce ai viventi, è detto nella laude a Gesù dolcissimo, dator di luce. Una simile parola non esiste nel discorso, né nei libri, eppure lui l'ha inventata. Eppure lui l'ha inventata, l'ha trovata nella sua mente. Oltre ad avere snellezza e solennità, signor mio, occorre altresì che ogni versetto sia in tutti i modi adornato, e ci siano dentro, e i fiori, e il fulmine, e il vento, e il sole, e tutte le cose del mondo visibile. E ogni esclamazione va fatta in tal guisa che sia piana e lieve per l'orecchio. Gioisci, giglio della paradisiaca flora, è detto nella laude a Nicola Taumaturgo. Non è detto semplicemente giglio paradisiaco, ma giglio della paradisiaca flora. Così è più scorrevole e dolce per l'orecchio. Così precisamente scriveva anche Nicolai, punto per punto così. Non posso nemmeno spiegarvi come gli scriveva. «Sì, in tal caso è un peccato che sia morto», dissi io. «Andate avanti però, padre, se no faremo tardi». Iaronim si riprese e corse al canapo. Sulla riva cominciarono a suonare, avvicendandosi tutte le campane. Probabilmente intorno al monastero già si stava svolgendo la processione, perché tutto lo spazio buio dietro le botti di catrame era adesso disseminato di lumi in movimento. «Nicolai stampava le sue laudi?» domandai a Iaronim. «E dove stamparle?» egli sospirò. «E poi, stamparle sarebbe stato strano? A che scopo?» «Da noi nel monastero nessuno si interessa di ciò. È una cosa che non piace». Sapevamo che Nicolai scriveva, ma non ci facevamo attenzione. «Oggidì, signore, nessuno apprezza le nuove scritture». «Le considerano con prevenzione?» «Proprio così. Se Nicolai fosse stato un vecchio monaco, la frateria avrebbe forse anche mostrato curiosità. Ma lui non aveva ancora nemmeno quarant'anni. Ce n'erano che ridevano e tenevano i suoi scritti in conto perfino di peccato. Perché dunque scriveva? Così, più che altro per suo conforto. Di tutta la frateria, soltanto io leggevo le sue laudi. Andavo da lui alla chetichella, che gli altri non vedessero, ed egli era lieto che mostrasse interesse. Mi abbracciava, mi accarezzava sul capo, mi chiamava con nomi affettuosi, come se fossi stato un piccolo bimbo. Chiudeva la cella, mi faceva sedere accanto a sé e avanti a leggere. Ieronim lasciò il canapo e venne verso di me. Noi due eravamo come amici, mi sbigliò guardandomi con occhi lucenti. Dove andava lui, andavo anch'io. Se io non c'ero, si annoiava. Chiamava me più di tutti e questo perché io piangevo a sentire le sue laudi. Rammentarsene è commovente. Adesso io sono tale quale come un orfano o una vedova. Sapete, da noi nel monastero è tutta brava gente, buona, pia, ma in nessuno c'è dolcezza e delicatezza. Sono proprio come la gente di semplice condizione. Parlano tutti a voce alta, camminando fan rumore coi piedi, fan chiasso, tossiscono. Invece Nicolai parlava sempre piano, affabilmente e se notava che qualcuno dormisse o pregasse, passava oltre come un moscerino o una zanzara. Aveva un volto suave, compassionevole. Hieronym sospirò profondamente e afferrò il canapo. Già ci avvicinavamo alla riva. Dalle tenebre dal silenzio del fiume noi passavamo direttamente a grado a grado in un regno incantato, pieno di fumo soffocante, di luci crepitanti e di baccano. Accanto alle botti di catrame, già lo si vedeva chiaramente, si muovivano delle persone. Il balenio del fuoco dava alle loro facce e figure rosse un'espressione strana, quasi fantastica. Ogni tanto, fra mezzo alle teste e dai visi, balenavano muci di cavalli, immobili, come fugi nel rame. Tra un momento intoneranno il canone pasquale, disse Hieronym, e Nicolai non c'è più, non c'è nessuno che sappia approfondirlo. Per lui non c'era scrittura più dolce di questo canone. soleva penetrarne ogni parola. Ecco, voi sarete là, signore. Approfondite quel che si canta e vi si mozza il respiro. E voi, forse, in chiesa non ci sarete? Non mi è possibile, bisogna traghettare. Ma non vi daranno il cambio? Non so, dovevano già darmi il cambio verso le nove, ma come vedete non me lo danno. E lo confesso, vorrei andare in chiesa. Siete monaco? Sì, signore, cioè, sono novizio. La chiatta corse su per la riva e si fermò. Io misi in mano a Hieronym un cinquino e saltai a terra. Subito dopo, un carro da contadini, con sopra un ragazzo e una donna che dormiva, salì scricchiolando sulla chiatta. Hieronym, debolmente tinto di rosso dai fuochi, fece forza sul canapo, si curvò e smosse la chiatta dal posto. Alcuni passi rifeci nel fango, ma poi mi fu dato seguire un sentiero molliccio formato da poco. Questo sentiero conduceva al portone buio, simile a una profonda cavità del monastero, attraverso una folla disordinata di gente, di cavalli staccati, di carri, di calessini. Tutto ciò cicolava, sbuffava, rideva e dappertutto balenavano la luce porporina e le ombre ondeggianti del fumo. Un vero caos e in mezzo a quella calca trovavano ancora il posto per caricare un cannoncino e vendere panforti. Dall'altra parte del muro, entro il recinto, non c'era meno barahonda, ma si poteva osservare maggior ritegno e ordine. Lì si sentiva odor di ginepro e di benzoino. si parlava forte ma non si odiva ridere né sbuffare. Accanto ai monumenti funerali e alle croci si stringevano l'una all'altra delle persone con pani pasquali e fagottini. Evidentemente molti di esse erano venute da lontano per far benedire i pani pasquali e adesso erano stanche. Sui lastroni di ghisa che formavano una striscia dal portone alla porta della chiesa correvano affacendati battendo sonoramente gli stivali dei giovani novizi. Anche sul campanile c'era trambusto e si gridava che notte agitata pensavo come bello pareva di vedere l'irrequietezza l'insonnia in tutta la natura a cominciare dalla tenebra notturna per finire con i lastroni le croci delle tombe e gli alberi sotto i quali si affacendava la gente ma in nessun posto l'eccitazione e l'irrequietezza si manifestavano così intensamente come in chiesa. All'ingresso si svolgeva una lotta incessante tra l'afflusso e il deflusso. Gli uni entravano gli altri uscivano e ben presto tornavano dentro per fermarsi un poco e rimettersi da capo in moto. La gente vaga da un punto all'altro va a zonzo e pare che cerchi qualcosa. Uno data parte dall'ingresso e corre per tutta la chiesa turbando perfino le prime file dove stanno in piedi le persone posate e gravi. di concentrazione nella preghiera non si può nemmeno parlare. Non si prega affatto ma c'è una specie di allegrezza generale infantilmente inconsapevole che cerca solo il pretesto di rompere e di affondersi in un qualunque movimento sia pure in un vagabondare e accalcarsi senza riguardo. La stessa inconsueta mobilità balza agli occhi perfino nella funzione pasquale. le porte santi di tutte le cappelle sono spalancate nell'aria intorno al turibolo fruttuano dense nubi di fumo d'incenso dovunque tu guardi dappertutto lumi scintillio crepitare di cieli nessuna recitazione di preghiere il canto affaccendato a giocondo non si interrompe sino alla fine dopo ogni canto del canone il clero cambia le pianete ed esce ad incensare il che si ripete quasi ogni dieci minuti. io non feci in tempo ad occupare un posto che più avanti rifluiò un'ondata e mi rigettò indietro. Dinanzi a me passò un alto e robusto diacono con un lungo cero rosso. Dietro a lui si affrettava col turibolo l'archimandrita canuto con una mitra dorata in capo. Quando essi furono usciti di vista la folla mi respinse nuovamente al posto di prima. Ma non erano ancora trascorsi dieci minuti che affluiò una nuova ondata e ricomparve il diacono. Ma questa volta lo seguiva il padre vicario quello stesso che secondo le parole di Jeronim aveva scritto la storia del monastero. Io che m'ero fuso con la folla ed ero stato preso dalla gioiosa eccitazione generale provavo un'intollerabile pena per gli Jeronim perché non gli davano il cambio perché non sarebbe dovuto andare sulla chiatta qualcuno meno sensibile e meno impressionabile. Volge intorno agli occhi tuoi o Sion e vedi si cantava nel coro perché sono venuti a te come fiaccola di luce divina i figli tuoi dall'occidente e dal settentrione e dal mare e dall'oriente. Io guardai i visi su tutti c'era una vivazza espressione di solennità ma non uno stava ad ascoltare né approfondiva ciò che si cantava e a nessuno si mozzava il respiro. Perché non dare il cambio a Jeronim? Io ero in grado di raffigurarmi quel Jeronim che umilmente stava in piedi in qualche punto accanto al muro che si curvava e avidamente afferrava la bellezza della sacra frase. Tutto ciò che ora sfiorava l'udito della gente in piedi accanto a me egli l'avrebbe bevuto avidamente con la sua anima sensibile e se ne sarebbe inebriato fino all'estasi fino ad averne mozzato il respiro e non ci sarebbe stato in tutto il tempio un uomo più felice di lui. Adesso invece egli andava avanti e indietro sul fiume buio e si angustiava per il suo morto fratello e amico. Di dietro affluio non data un monaco grassoccio sorridente giocherellando col rosario e guardandosi alle spalle si spingeva innanzi di fianco a me aprendo un passaggio a una signora in cappello e con pelliccia di velluto. Dietro la signora portando una sedia sopra le nostre teste si affrettava un converso del monastero. Uscì di chiesa avrei voluto vedere il morto Nicolai ignoto compositore di laudi feci un giro presso il recinto dove si stendeva lungo il muro una fila di celle monacali dettai uno sguardo in alcune finestre e non avendo veduto nulla tornai indietro. Adesso non rimpiango di non aver visto Nicolai forse il Dio lo sa forse il Dio lo sa se l'avessi visto avrai perduto l'immagine che ora mi dipinge la mia fantasia. quel simpatico e poetico uomo che usciva la notte a scambiare richiami con Ieronim e cospargeva le sue laudi di fiori di stelle e di raggi di sole incompreso e solitario. Io me lo figuro timido pallido con dolci miti e malinconici lineamenti. Nei suoi occhi insieme con l'intelligenza doveva brillare l'affetto e quella appena trattenuto infantile entusiasmo che avevo udito nella voce di Ieronim quando mi citava quei passi delle laudi. Allorché dopo la messa uscimmo di chiesa non era più notte cominciava il mattino le stelle si erano spente e il cielo appariva grigio-azzurro imbronciato i lastroni di ghisa i monumenti e le gemme sugli alberi erano velati di rugiada nell'aria si sentiva una pungente frescura di là dal recinto non c'era più l'animazione che avevo veduto di notte i cavalli e la gente parevano affaticati assonnati si muovevano appena e delle botte di catrame non restavano se non mucchietti di cenere nera quando l'uomo è stanco e vuol dormire gli sembra che anche la natura si trovi nel medecimo stato a me pareva che gli alberi e le arbanovelle dormissero pareva che per fin le campane suonassero meno forte e meno lietamente che nella notte l'irrequietezza era finita e dell'eccitazione era rimasta solo una piacevole languidezza una gran voglia di sonno e di caldo adesso potevo vedere il fiume con entrambe le rive su di esso fluttuava or qua or là disegnando colline e una nebbia leggera dall'acqua aspirava freddo e austerità quando saltai sulla chiatta vi stavano già sopra il calessino di non so chi e due decine di uomini e donne il canapo umido e mi sembrava sonnolento vi stendeva lontano attraverso il fiume e spariva a tratti nella bianca caligine cristo cristo e risorto non c'è nessun altro domandò una voce sommessa io riconobbi la voce di hieronym adesso le tenebre notturne non mi impedivano più di osservare il monaco era un uomo alto stretto di spalle sui 35 anni con lineamenti grossi e tondeggianti con gli occhi semi chiusi che guardavano pigri e una barbetta a punta non ravviata aveva un aspetto insolitamente malinconico e stanco non vi hanno ancora dato il cambio mi meravigliai a me domandò egli a sua volta volgendomi il capo intirizzito coperto di rugiada e sorridendo adesso non c'è più nessuno per darmi il cambio fino al mattino ora andranno tutti dal padre archimandrita a rompere il digiuno lui è anche un certo contadinotto dal berretto di pelle rossiccia simile a quei bossoli di tiglio nei quali si vende il miele fecero forza sul canapo e misero un raschio con corde e la chiatta si mosse prendemmo il largo disturbando per via la nebbia che si alzava pigramente tutti tacevano Iaronim lavorava come un automa con una sola mano egli girò a lungo su di noi i suoi miti occhi appannati poi fermò il suo sguardo sul volto rogeo di una giovane mercantessa dalle ciglia nere che stava sulla chiatta al mio fianco e si ragginciava in silenzio per la nebbia che l'abbracciava dal suo volto non staccò gli occhi durante tutto il percorso in quello sguardo prolungato c'era poco di maschile credo che sul volto della donna Iaronim cercasse le dolci e delicate sembianze nel suo estinto amico grazie a tutti Grazie a tutti